Ciao a tutti da Plante Reviews, oggi è il 19 aprile e ora parlo di un'incredibile fragrante daffodile Narcissus Marguerite Patton e questo è un tanzetta daffodile che appena al gruppo 8 della classificazione di daffodile e ho trovato su daffodile che è supposed a essere un daffodile pre-tolle, circa 60 cm talle, ma in mio caso è abbastanza piccola, probabilmente circa 35-40 cm, oltre al fatto che ho coltivato in un pot, quindi vedremo se il prossimo anno coltivato in un più grande pot è un po' taller, ma definitivamente, cosa posso dire è che la fragranza non era affettata a tutto, è incredibilmente fragrante, questo daffodile. Il risultato di questo daffodile è fatto per Duplessis in England, è uno dei più famosi daffodile hybridizers in England, e fu registrato nel 2016 da Ron A. Scamp in England, che è la persona da cui ho comprato questo daffodile. Questo daffodile produce up to 5 flowers per stem, in mio caso sono normalmente 3-4, questa è solo 2, e sono up to 6-7 cm wide, anche se in mio caso, le flowers sono, credo, circa 5 cm di daffodile, quindi un po' smaller che come è descrittato sul daffodile. Il pariant, quindi il cluster dei tapas, il pariant, quindi l'area dei tapas, che è basso, le flowers, sono pure bianche, come puoi vedere, e la corona è di un vero vero vero. È un vero vero contrastante, vero contrastante colori in questo daffodile, quindi ho già come questo daffodile per le flowers, è assolutamente bellissimo, come puoi vedere, credo che in il sole puoi apprezzare ancora più la bellezza di questo daffodile, e qualcosa che su daffodile non è scritto, è che questo daffodile è meravigliamente fragrante, è un po' sembra di tazzetta, con più noti di pepperminti e licorice, non so se c'è un gionchilla in suo parentaggio, io lo so che i Plessis adorano adorare i gionchillas con tazzetta, peperminti e licorice, ma non è pungentato, la fragranza è assolutamente fresca, e vorrei dire che è un florale con abbastanza forte di pepperminti e licorice, ma non è un po' semplice che alcuni altri daffodile che hanno pepperminti e licorice, perché questo non è molto pungente, credo che il florale è più intensa in questo daffodile, in comparazione con altre varietà che hanno una notte più forte di pepperminti e licorice, la fragranza è assolutamente bella, è difficile da descrivere, ma sì, definitivamente, questo va in mio tazzetta gruppo per la pollinazione qui, quindi sono davvero spero di colpire le sede, questo è il mio tazzetta daffodile gruppo, l'ho plantato tutti insieme perché spero di attraverso molti pollinatori qui, quindi ho spero di ottenere molti sede qui, e ti guardo ovviamente con il progetto dei sede, che sarà un po' anni fino a ottenere le sede, ma beh, devi essere paciente a volte, e parlando di questo daffodile Marguerite Patton, ho trovato su daffseek, che è il migliore web site su daffodile, che questo daffodile è una varietà chiusura dal dottore Judith Patton, quindi il dottore di Marguerite Patton, in order to reflect the late cookery writer's qualities as modern and vibrant and with a twink in her eye, so I hope that is a twist in her eye, I'm not too sure, my writing is terrible, I will put it in the description anyway, but this daffodile is quite rare to find, I actually don't know who was Marguerite Patton, it's just information I found on daffseek, so I will invite you all to find out more about this evidently this very interesting woman, so this daffodile is not easy to find, it is, I found the order online at Ron's camp quality daffodils, and however if you like fragrant daffodils, this is definitely daffodile I recommend you to find because the fragrance is absolutely gorgeous, as usual for daffodils, daffodils need to be planted in autumn, well 10 centimeters deep and 10 centimeters apart and then the leaves will start sprouting between autumn and winter and the flowers in this variety in particular will appear in early spring today is 19th of April, so actually we are already going to mid spring and after the blooms the flowers fade the leaves will fade a few weeks later and the bulbs will go dormant in summer, in summer they don't need watering or fertilizing because the bulbs are dormant however you can lift them if you want to move them around or you can divide them obviously if to avoid that clumps become too tight as usual I hope that you enjoy the video thank you very much for watching if you like this video would be great if you give please give it thumbs up and if you like this video and other videos on my channel would be great if you can please subscribe is completely free for you but in this way it helps me a lot to get noticed by the youtube staff that in turn will the more subscribers I get the more they do to support me and my channel and to promote the channel on the youtube platform thank you very much for watching and I hope to see you next time bye